A giudicare da come la guarda sembra proprio che alla mamma di Andrea Zenga la fidanzata Rosalinda Cannavò piaccia proprio. Seduta sul pavimento con il telefonino poggiato sul tavolino del salotto, Roberta Termali insieme al figlio guarda con ammirazione l'attrice vestita da sposa per un evento. E Rosalinda con quell'abito è proprio bella, impossibile non guardarla con ammirazione e orgoglio. Proprio così il suo fidanzato riprende tutto in un video pubblicato su Instagram dove si vede la sua mamma che guarda l'evento con la sfilata. Il giovane innamorato dell'attrice scrive io e mamma eravamo impegnati stasera e poi aggiunge meraviglia taggando sua madre sul social e Rosalinda. Intanto è bello rivedere Roberta Termali in forma. La donna nelle scrose settimane era sparita dai social perché ha dovuto lottare contro il covid. Una brutta esperienza che la Termali fortunatamente ha superato, ecco le sue parole. Non sottovalutate i sintomi e controllatevi sempre, se preso in tempo non è peggiore di una brutta influenza.